Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Incidente fatale in autostrada. Il calciatore è morto in ospedale. Ecco cos'è successo. Alla fine non ce l'ha fatta. Il giovane calciatore aveva avuto un incidente lungo l'autostrada del Brennero circa tre mesi fa. In questo lasso di tempo è stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma un'infezione gli è stata fatale. Cos'era successo? Tre mesi fa, in seguito a un incidente stradale, il giovane era stato sbalzato dall'abitacolo della Golf su cui viaggiava insieme ad altri quattro giovani. Grande il dolore della mamma e del papà, dei fratelli, dei compagni di squadra Elis e Arnaldo Captina. Come sottolinea il quotidiano Alto Adige, la notizia ha sconvolto anche la comunità albanese Alto Atesina e l'intera città di Bolzano. Il calciatore morto risponde al nome di Kevin Kakà, 21 anni, Bolzanino di origini albanesi che ha lottato con tutte le sue forze per rimanere in vita. Un destino beffardo per il giovane calciatore che vestiva la maglia della Virtus Bolzano, squadra militante nel campionato di Serie C. Dal profilo Facebook della sua squadra è il saluto dei compagni, ovunque tu sia grazie per tutto quello che ci hai dato. Ciao Kevin